Seduta di Consiglio Comunale a San Marzano e sul Sarno, una seduta di Consiglio Comunale dove non si fanno chiacchiere ma fatti, si vota, si discutono interventi brevi con gis da parte delle minoranze e poi si va subito al noccio della questione. Ultimamente sto registrando effettivamente una responsabilità da parte delle minoranze a dare seguito a quella che è l'azione amministrativa di questa maggioranza, di questo ne do atto pubblicamente ma al contempo devo ripetere che le problematiche restano e sono ancora tante ma dovute specialmente a quelle che sono poi gli organi superiori, gli organi sovracomunali che dovrebbero quantomeno coadiuvare in più rispetto a quello che un sindaco, un'amministrazione, un intero Consiglio Comunale mette in campo per la soluzione delle varie problematiche. Noi di minoranza cerchiamo sempre di dare il nostro contributo perché tra le altre cose va per la nostra comunità, quando riusciamo ad entregarci con la maggioranza ci rende orgogliosi di poter dare un contributo in modo che si cerca di lavorare insieme per le problematiche che persistono sul nostro territorio e quindi insieme forse si può dare di più.